E' un momento, con un momento, l'abbraccio del Vescoio dell'Ottimato, del Vescoio Donato di Vero e con tutti i Vescoio, questo era il segretario della Sacra Congregazione dell'Occidente orientale e questo è un signor Salvatore Numero, amministratore a posto, è stata la commozione del Vescoio. Eccolo. Ora va al Cardinale di Palermo. E va a salutare tutti i Vescovi della Calabria. Questo è il Vescovo della Costa d'Alorio, che ne dicevo poc' anzi. Dandì, un signor Dandì della Costa d'Alorio. E saluta uno per uno Vescovo. Questo è il Vescovo di Catanzaro. Monsignor Bertolone. Dandì, un signor Dandì della Costa d'Alorio. Molto emozionato il Vescovo. Si venga adesso a salutare gli altri Vescovi convenuti qui. Dandì, un signor Dandì della Costa d'Alorio. Dandì, un signor Dandì della Costa d'Alorio. dandì, un signor Dandì della scena. E la scena Dandì della Costa d'Alorio. Grazie a tutti.